... Politica pronta alla squadra del Movimento 5 Stelle, torto alla Camera di Girolamo al Senato, terminate le parlamentari pentastellati hanno ufficializzato la lista dei candidati. Long Covid è sempre più diffuso in Abruzzo, Fazzi, ma la sindrome è benigna, il virologo, non esistono terapie specifiche perché i sintomi sono diversi. Chieti il lutto per la morte di Lorenzo, il 19enne di origini rumene colto da malore, teramo anziano aggredito e picchiato in casa da tre balordi per pochi euro. Pescara per l'attacco SAU garantirebbe a Biancazzurri l'atteso salto di qualità e in difesa torna l'ex brosco dal Vicenza in uscita in grosso. Il più cordiale è ben ritrovati in nuova edizione del TGA, il nostro telegiornale d'Abruzzo e dunque in primo piano la politica, le elezioni del 25 settembre con la squadra del Movimento 5 Stelle che è pronta. Sentiamo nel servizio Sara Del Vecchio. Il Movimento 5 Stelle, terminate le parlamentarie, ufficializza la lista dei candidati. I nomi dei più votati sono stati pubblicati sul sito. Le due uscenti in Abruzzo corrono da capilista. In particolare Daniela Torto, che ha ricevuto 662 preferenze, è candidata alla Camera con leggi plurinominali e Gabriella Di Girolamo, che ha ottenuto 947 voti, è candidata al Senato. Gli altri candidati abruzzesi alla Camera sono Livio Sarchese, al secondo posto consigliere comunale di Francavilla al Mare, Valentina Corneli, deputata uscente, e Attilio D'Andrea, assessore comunale a Sulmona. Al Senato, sempre con leggi plurinominali, ci sono, oltre a Di Girolamo, Fabio Stella, assessore al Comune di Chieti, Franca Ursini, attivista di Pescara. Per le candidature all'uninominali di Camera e Senato, si deve attendere. E siamo al Covid, con 798 nuovi casi registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore, processati 1.000 tamponi molecolari e 4.116 test antigenici. Questa è la ripartizione dei casi per provincia, 193 a Chieti, 171 a Teramo, 162 a Pescara, 133 all'Aquila, 51 fuori regione, 88. In accertamento, nessun morto, mentre sono 358 i guariti. Quanto ai ricoveri? 7 le persone in terapia intensiva, più 1 rispetto alla giornata di sabato, e 168 quelle in area medica. Qui il dato è in calo, meno 6 rispetto a ieri. E rispetto al Long Covid, abbiamo ascoltato il virologo Paolo Fazzi. Sentiamo. Il Long Covid, sindrome che interessa coloro che hanno avuto il virus, colpisce sempre più persone in Abruzzo. Il responsabile dell'Unità Operativa Complessa di Virologia e Microbiologia dell'Asla di Pescara, Paolo Fazzi, cerca di chiarire quali sono i sintomi, ma rassicura si tratta di una sindrome benigna che persiste per qualche settimana o per pochi mesi. Diciamo che solitamente il Long Covid è una sindrome benigna che si autorisolve nell'arco di settimane o mesi. Diciamo che bisogna avere molta pazienza, non bisogna essere particolarmente preoccupati. Certamente, però, soprattutto se si hanno sintomi in natura neuropsichiatrica, ovviamente ci si spaventa perché l'apatia, la depressione, l'ansietà o l'insonnia possono scaturire nell'ambito del soggetto infetto, malato o dei familiari delle preoccupazioni. Certamente è un quadro sindromico non ancora ben definito perché parliamo comunque di una malattia, parlo di Covid-19, molto giovane, però io penso che con un po' di pazienza queste situazioni possano essere tranquillamente sucrate. Ma in qualche modo si deve curare il Long Covid e come? Il Long Covid si cura in maniera sintomatica, non è che ci sia una terapia specifica. È un quadro sindromico e in base alla localizzazione d'organo tu agisci di conseguenza con le adeguate terapie. Che sintomi dà? Dà dei sintomi che sono vari, solitamente stanchezza, quindi astenia, dolori mialgici, quindi a livello dei muscoli articolari, possono dare anche sintomi a livello del sistema nervoso centrale, apatia, ansietà, depressione. Ultimamente sono visti dei casi con ipersudorazione oppure dei sintomi invece a livello del sistema, ad esempio, cardiovascolare, quindi pericarditi, neocarditi, aritmie cardiache. Siamo all'ospedale di Pescara. Sul sito dell'ASL è ora possibile verificare in tempo reale quanta fila c'è al pronto soccorso. Vediamo il servizio. Nei giorni scorsi a Pescara, da parte dell'assessore alla sanità della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, e del manager dell'ASL, Vincenzo Ciamponi, è stato presentato il nuovo piano operativo per gestire le emergenze al pronto soccorso ed evitare così il sovraffollamento, ma soprattutto la mancata assistenza agli utenti. Ora c'è uno strumento in più per monitorare in tempo reale quante persone sono in attesa di essere visitate. Basta cliccare sul link dell'ASL di Pescara, situazione pronto soccorso. Collegandosi è possibile visionare quanti utenti sono in attesa in codice rosso, giallo, verde e bianco. Queste informazioni sono disponibili per tutti e tre gli ospedali dell'ASL, non solo Pescara, ma anche Penne e Popoli, e sono utilissime per capire se è il caso di recarsi o meno al pronto soccorso e dove di preciso. Negli ultimi mesi non sono mancati i disagi e purtroppo si sono verificati anche episodi non trascurabili. A settembre inoltre sarà attivata la centrale unica del 118 Chieti-Pescara. E l'andamento della pandemia influenza anche quest'anno il mondo della scuola. L'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Pescara, Giovanni Santilli, propone di consumare i pasti in classe almeno per il primo periodo. Vediamo. Manca meno di un mese ormai all'inizio dell'anno scolastico. La prima campanella in Abruzzo suonerà il 12 settembre. L'andamento della pandemia da Covid-19 influenzerà ancora una volta inevitabilmente il mondo dell'istruzione. Precauzione e sicurezza restano le parole chiavi. Lo scorso anno a Pescara i pasti venivano consumati in classe in alcune scuole. L'assessore comunale alla pubblica istruzione Gianni Santilli vuole proporre ai presidi di seguire questo esempio per tutte le scuole in cui è prevista la mensa almeno per il primo periodo. La proposta mia è sicuramente questa perché vorrei che il primo mese vediamo come vanno le cose. Vedremo come vanno le cose perché già il fatto che quest'anno il Ministero ha dato la possibilità ai ragazzini di tornare a scuola senza la mascherina però io andrei un attimo con i piedi di piombo. Quindi parlerò con i presidi e con la ditta che porta avanti la mensa la serenissima per far sì di continuare almeno per un mese ancora il pasto in classe poi se tutto tornerà alla normalità riusciremo a riportare i ragazzi nei riflettori. Ci trasferiamo in provincia di Chieti per una notizia di cronaca lutto appena a piedi monte per la morte ieri di Laurenzio Ciù 19enne di origini rumene in Italia dal 2008 con la sua famiglia che subito dopo pranzo è stato colto da malore. Sono intervenuti un'ambulanza del 118 e l'elicottero quando sono giunti però i soccorritori il ragazzo era già in arresto cardiaco i sanitari hanno cercato di rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Guardia Grele a cui i familiari hanno chiesto che sia effettuato l'autopsia per accertare le cause della morte Lorenzo come lo chiamavano tutti in paese viveva con i genitori e il fratello più grande la salma su disposizione della PM Giuseppe Falasca è stata portata all'obitorio di Chieti Sospetti sversamenti di idrocarburi nel fiume Pescara l'Arta compie prelievi vediamo sversamento di gasolio nel fiume Pescara le immagini che riprendono una marea nera sono state fatte girare da alcuni diportisti e l'Arta agenzia regionale per la tutela dell'ambiente sta effettuando i controlli sulle acque dopo gli allarmi di malfunzionamento arrivati dagli impianti di sollevamento della rete fognaria un problema causato quasi sicuramente dal maltempo di venerdì in città i diportisti che hanno girato le immagini e hanno segnalato nei video un forte odore di carburante o catrame provenire proprio dal fiume i tecnici dell'Arta hanno prelevato le acque per il campionamento sulla sponda sud del fiume all'altezza del Ponte Flaiano in corrispondenza di un rimessaggio di imbarcazioni si tratta di uno sversamento di idrocarburi ma le analisi saranno pronte solo tra lunedì e martedì gli impianti di sollevamento da cui è arrivato l'allarme sono quelli denominati le Mainard Ecoterm Laureti Ponte Capacchietti è stato picchiato e derubato di alcune centinaia di euro da tre uomini con il volto coperto che hanno fatto irruzione nella sua abitazione dopo l'intervento dei carabinieri e del personale del 118 l'87enne è stato portato in ospedale curato con dei punti di sutura un braccio sul posto sono intervenuti i carabinieri di Musciano Sant'Angelo e del Nuclo radiomobile della compagnia di Giulianova che ora stanno indagando per individuare i responsabili Siamo a Teramo al Parco della Scienza aperto lo sportello CAS Comune Centro Servizi per il Volontariato aiutano gli utenti nella compilazione digitale delle domande del servizio Dopo il protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune di Teramo e il Centro Servizi per il Volontariato sono aperti due nuovi sportelli per il CAS al Parco della Scienza di Teramo Personale e volontari del CSV resteranno a disposizione degli utenti soprattutto in considerazione delle nuove richieste più complesse per chi magari non è pratico con la tecnologia Aperti gli sportelli per il supporto all'iscrizione alla nuova piattaforma CAS lo abbiamo voluto fortemente con l'assessore De Santis abbiamo instaurato questa forma di collaborazione con il CSV che ringrazio il Comune di Teramo si mette a disposizione dei tanti utenti del CAS per facilitare la presentazione delle domande un supporto necessario che segue ovviamente all'ordinanza che ha di fatto informatizzato tutto il sistema con l'iscrizione sulla piattaforma per dare un supporto ai tanti nuclei che ancora sono assistiti dal CAS con l'obiettivo che ovviamente ciascuno di noi ha come istituzioni di consentire un rientro nelle abitazioni il prima possibile un'assistenza di carattere sociale un supporto che abbiamo ritenuto doveroso il Comune di Teramo diventa modello di riferimento grazie alla collaborazione col CSV nell'ottica della sussidiarietà e della solidarietà nei confronti di chi magari ha più difficoltà per poter accedere a queste procedure per consentire assolutamente a tutti di poter accedere di potersi iscrivere sappiamo quanto è sensibile il tema del contributo per l'autonoma sistemazione e soprattutto non far sentire nessuno da solo speriamo appunto di cominciare bene anche perché è una piattaforma particolare dove ci vuole un po' di tempo per ogni famiglia invitiamo tutti a venire ma più che altro a vedere quello che appunto si deve fare nella piattaforma mi raccomando i documenti che sono importanti perché servono i documenti per poter andare avanti con le schede che ci chiede il computer per compiere la scheda della piattaforma finale per il CAS Ci trasferiamo a Martinsicuro perché il geologo di Carlo Antonio ha depositato in comune un progetto di ingegneria naturalistica in difesa della spiaggia sud di Villa Rosa permettendo l'apporto di sedimenti sabbiosi per arginare il fenomeno erosivo vediamo Il geologo Luca di Carlo Antonio già incaricato di diversi studi di difesa della spiaggia ha depositato al comune di Martinsicuro una proposta progettuale di ingegneria naturale per salvaguardare il tratto sud di Villa Rosa a confine con Alba Adriatica L'opera permetterebbe di limitare l'avanzata del fenomeno erosivo ricreando l'apporto di sedimenti sabbiosi La proposta è quella di utilizzo di ingegneria naturalistica per la salvaguarda del tratto di litorale Villa Rosa Sud Rammendo che il Villa Rosa Sud è un tratto che va dalla foce del torrente vibrata fino a 300 metri nord è un tratto che è inserito nel piano regionale paesistico ovvero sottoposto a tutela quindi l'idea è quella di salvaguardare questo tratto con queste opere che in modo tale da ricreare la naturalità di questo litorale e in modo tale diciamo da allungare la spiaggia purtroppo a causa degli interventi effettuati nel passato che questo tratto praticamente è stato ormai dimenticato dagli enti a causa appunto delle opere antropiche poste più a nord quindi sia opere parallele che i pennelli cosiddetti pennelli bloccano il trasporto solido longitudinale di questi sedimenti e quindi ovviamente aumentano anche queste correnti su questa zona tecnicamente dunque che è possibile fare? è possibile inserire opere innanzitutto sostenibili e anche di poco costo è possibile inserire ad esempio delle barre fatte in legno ad esempio o anche con geodessudi in modo tale che la sabbia rimanga intrappolata all'interno bloccando ovviamente il vento e restiamo a mattin sicuro ma per parlare di turismo abbiamo ascoltato gli operatori che confermano il trend positivo per la stagione un 10% in più di turisti anche stranieri arrivati a Martinsicuro per trascorrere le vacanze un trend positivo dopo due stagioni che avevano lasciato tutti con il fiato sospeso a causa del covid la pandemia c'è ancora ma la si riesce a gestire così la porta nord d'Abruzzo come anticipato qualche giorno fa i nostri microfoni dal presidente della Martinsicuro vacanze a Medeo Corsi fa registrare buone presenze la stagione sta andando bene anzi per come previsto ci aspettavamo qualcosa in più ma va bene uguale vista la situazione che veniamo dai due anni di covid quindi non abbastanza impegnativi stiamo continuando a lavorare quindi speriamo che continui così almeno anche fino a settembre visto che la struttura rimarrà aperta fino a metà settembre come vanno le prenotazioni per settembre? qualcosina si sta muovendo forse magari la gente sta ancora aspettando magari prima prenotano tutti anche all'ultimo momento quindi un po' tutto un po' così però qualcosina si muove già anche per settembre si guarda il meteo e anche il covid appunto esattamente adesso c'è questa novità del meteo che tutti guardano quindi si fanno anche un po' confondere le idee mentre prima magari uno usciva quello che trovava vedeva adesso ci si guarda perché comunque visti i tempi si guarda anche al risparmio quindi c'è da dire anche questo però non ci lamentiamo dai che stagione è stata questa per gli stabilimenti balneari a Martinsicuro forse la più difficile di sempre causa rincari sulle bollette che sappiamo tutti sono ormai una realtà consolidata e sicuramente la scarsità del personale quindi la forza lavoro stiamo lavorando penso quasi tutti i colleghi quindi il 90% dei colleghi sta lavorando con sotto numero quindi con grossissime difficoltà oggettive su questo fatto però dal punto di vista meteo è stata un'estate eccezionale con il caldo che ha iniziato già a maggio sì su quello non ci possiamo assolutamente lamentare sicuramente tra gli estati più calde di sempre quindi più affluenza tra gli ombrelloni sì sì tra gli ombrelloni possiamo certificare un'affluenza davvero ottima ripeto molta della della clientela viene da servita per quello che possiamo con le nostre capacità facendo delle difficoltà sulla numerazione sul numero effettivo di personale che abbiamo da dove arrivano soprattutto i turisti dal nord nord Italia sicuramente qualcosa dall'Olanda qualcosa dalla Germania però il 90% dall'Italia dal nord Italia siamo alla calcio di serie C con il Pescara che ha giocato nel pomeriggio l'amichevole con i Rimini ma tiene banco anche e soprattutto il mercato l'ultimo nome è quello dell'attaccante Sau Benedetto Marinacci 10 giorni per gli ultimi tre acquisti del Pescara dopo i 17 nuovi arrivi il DS dell'Icarri ora non vuole sbagliare le ultime tre mosse e soprattutto piazzare il grande colpo in attacco per chiudere in bellezza in difesa dopo l'accessione di Liane e Salavellino la società potrebbe privarsi anche di Ingrosso e forse di Veroli il tutto per far posto al ritorno in riva all'Adriatico del classe 91 Riccardo Brosco il calciatore sta trattando lo svincolo con il Vicenza per poi tornare in bianco azzurro in ballo un contratto biennale per quanto riguarda il centrocampo sfumato Ghion passato al Catanzaro si registra l'infortunio di Salvatore Aloi ipotizzate quattro settimane di stop un'assenza certa per almeno le prime tre giornate di campionato difficile arrivare a Palmiro del Napoli con degli carri che continua a pressare Tengorang della Cremonese e Gavioli della Regina in avanti manca un calciatore che possa fornire a mister Colombo più soluzioni tattiche e il nome nuovo è quello di Marco Sau 34 anni bomber sardo attualmente svincolato esploso in C 12 anni fa con il Foggia di Zeman poi l'esploi in bicola Juve Stabia dove realizzò 21 reti e i sette anni a Cagliari con una parentese alla Sampdoria prima di arrivare al Benevento dove con i suoi 13 gol contribuì alla promozione in A dei Sanniti lo scorso anno ha avuto pochissimo spazio ed ha messo a segno solo una rete ma Sau è integro fisicamente desideroso di ripartire l'offerta dei ricari è un anno di contratto più un altro di rinnovo in caso di promozione in Serie B del Pescara mi fermo qui è tutto anche per questa edizione della TGA grazie per averci seguito vi auguro buon proseguimento con i nostri programmi grazie a tutti